Per questo venerdì 13, non so se la signora di Girolamo è scaramantica, sai che in America di solito quando fanno i film fanno succedere le tragedie il venerdì 13? No, guarda io sono una campana anomala, non sono affatto scaramantica, poi si dice che di venerdì Marte non si parte, non ci si sposa e non si inizia l'arte. Non si comincia neanche l'arte. Vabbè ma noi avremo un momento verità, non è un momento arte, quindi... E allora siamo un momento verità, Avanti Popolo il tuo programma in onda in prima serata su Re3 è un po' un richiamo alla politica? Ci stai ripensando? No, 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 assolutamente non sto ripensando alla politica però è comunque un modo per essere un cittadino attivo, comunque far parlare le persone di tutti i temi dell'attualità, della cronaca, delle cose che accadono, anche di esprimere un disagio ma soprattutto un confronto con la politica e con i decisori della politica. Cioè il popolo è sempre quello che subisce, che vota, che decide con quel voto ma a volte non è consapevole, quindi un popolo consapevole, educato, che si confronta secondo me è un buon esperimento. Tu sei un po' la donna dei cambiamenti no? Perché scusate, lei è stata avvocatessa, dottore di ricerca, deputata, ministro, conduttrice, cioè più cambiamenti di così negli ultimi 12-13 anni? Sì, troppo. Come troppo? Non mi dire che adesso diventi anche una popolana perché non ti credo? No, 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 però potrei sempre cambiare di nuovo tutto, questo può succedere. Questa sembra una minaccia detta così. È anche una minaccia. Sì, diciamo che come si dice dalle nostre parti non mi sono quieta, cioè non sto ferma un attimo, cambio sempre il mio cambiamento. Un po' è generato dalla vita perché, Caterina, alla fine non è che sempre, sempre si decide. A volte è la vita che decide per te e io diciamo a secondo questo flusso caotico della mia esistenza. Hai deciso di dire sì a Millie Carlucci, ballando con le stelle. Diciamo che poi alla fine tutto è partito da lì. Guardatela. Se non ci penso più mi sento bene Guardo una serie a latino mi sento bene Amami ancora Fallo dolcemente Un anno, un mese, un'ora Perdutamente Voglio non ballare un po' di più Voglio non sentire girare la testa Io trovo che la sua presenza nel programma non aggiunga molto. Stranamente perché lei è partenopea, no? Sì. È come mangiare la pasta in bianco. Non c'è neanche un goccetto d'olio. No. E io vorrei la pomarola in goppa. Già che non tolgo è qualcosa. Mi non aggiungo ma almeno non tolgo nulla al programma. Ti giuro che ti do la pomarolella. L'avvocato no. L'opinionista no. La politica no. Il ballo no. È evidente. Cioè quale sarà il prossimo tentativo? No ma... Qual è il prossimo... Cioè il prossimo... La prossima pelle che... Sai qual è la differenza fra me e te che io? È una visione positiva. Mica tanto. Sì. Io aggiungo, non tolgo. È un modo di vivere la vita. Lo auguro a tutti. Eccoci qua ancora con pomeriggio. Ci siamo fermati per 60 secondi. E prima della pubblicità abbiamo visto Nunzia De Girolamo all'azione a Ballando con le stelle. E i commenti dei giudici Mariotti e Selvaggia Lucarelli sono sempre stati abbastanza pungenti. Mariotto ti ha detto che è un po' come la pasta senza pummarolo. E la Lucarelli dice questo no, questo no, questo no. Il nostro tritavolte è bello attivo. E vuole sapere quindi... Chi triti tra Guglielmo Mariotto e Selvaggia Lucarelli e perché? Ah, allora faccio una premessa che mi sono divertita moltissima ballando ed è stato il primo vero atto di coraggio che ho dovuto fare. Perché ballare è complicatissimo, vestirsi da donna è complicatissimo. Vestirsi da donna è complicatissimo? Fermiamoci un attimo, scusate. Mi scusi, dottoressa De Girolamo, ma lei prima come si vestiva? No, ma schiaccia. Vabbè, ma... Jeans, scarpe da ginnastica, altri tipi di scarpe che non possiamo fare. Non avevi delle scarpe con i tacchi? No. Rare, rarissime. Un vestitino? Neanche per la domenica? No, devi sapere che avevo un guardarobba perché poi facendo politica tutti i taillers, tutti o neri o blu... Non è un po' sbagliato mettere da parte la femminilità perché fai politica? Completamente sbagliato. Mi sembra una cosa, un pregiudizio. Completamente sbagliato perché io ho avuto questo pregiudizio verso il... un po' determinato dalla società, eh? Il fatto di dire che una donna è credibile solo se gioca a fare il maschio. Eh no! E invece è un grande errore perché tu vieni maltrattata due volte, sia in quanto donna, sia perché fai la parte del maschio. Quindi non accadrà mai più. Allora, ti stupirò premettendo che ovviamente sono due persone di spettacolo, sia la Lucarelli che Mariotto e quindi facevano spettacolo. Li trito entrambi. No! Tutti e due! Una alla volta, sennò si rompe tutto, eh! Oggi è già venerdì 13. E li trito per uno stesso motivo. Prego! Una alla volta, ti prego! Il motivo è che non amo il pregiudizio. Però tu lo avevi? Verso me stessa, non verso gli altri. Beh, non ti credo. No, è vero. Questo è un pregiudizio politico. E quindi, diciamo, elimino il pregiudizio che ho subito quando ero politica. Che ho continuato a subire in quell'occasione. Quindi non è alla persona. Dalla Lucarelli. E qui il pregiudizio dello spettacolo. Perché? Che cosa ho vissuto io? Che penso che faccia veramente male, in generale, nel paese. Quindi non fare la vittima, eh? No, no, zero vittimismo. Ho vissuto, e quindi cosa non mi piace, il pregiudizio che noi politici avevamo verso il giornalismo e verso i conduttori e da conduttrice il pregiudizio che ho subito dalla politica. Quindi alla base c'era sempre il pregiudizio che si è moltiplicato per due. Da politico e da conduttore. Per cui, poiché penso che faccia veramente male essere, avere pregiudizio, non essere lineari, non essere un po' distaccati, liberi nel confrontarsi con gli altri, lo distruggo. Bene, tutti e due, è la prima volta che accade. Tutti e due. E dopo, ballando con le stelle, appunto, tu hai detto che è stato il mio primo atto di coraggio a dire di sì, per Nunzia davvero è diventato tutto è possibile. Tant'è vero che hai partecipato anche a stasera tutto è possibile. No, appunto, non ci siamo fatti mancare niente, lo dobbiamo vedere. Ti vediamo, sì. De Girolamo, più Fusco. Allora, il sole abbaglia, abbaglia. Il sole abbaglia, abbaglia. Ci sono le pecore che ballano. De Girolamo, abbaglia. Non balla il sole, il sole abbaglia. Perché quello già è difficile la ricezione, almeno l'emissione cerchiamola di fare corretta. Andiamo avanti. Il sole abbaglia, abbaglia. Ci sono? Sì, due le pecore. Ci sono? Sì, ci stanno, ci stanno. Il sole. Eh. Rigola. Brava. Il sole. Ricciole. Ricciole. Le famose ricciole. Il sole. Ricciole. Il sole abbaglia, abbaglia. Ricciole apparire, apparare. Il sole. Ah, il sole. E ma tu sai lo stacco. Il sole. Io capisco, si distaccale. Eh, esatto, hai capito? Hai capito? Chi stanno? Lucia, dimmi la verità, ma è il giorno che è giurato di fronte al presidente Giorgio Napolitano per diventare ministro della Repubblica. Avresti mai immaginato? Ma mai? Nella mia vita e rivedendomi, ancora penso come sia stato così. Ma rivedendo il filmato? Oppure vedendo questa foto? Mi fate vedere la foto di Nunzia al giuramento, quel giorno. Come è stato? È un'emozione gigantesca. Cioè, questo che abbiamo visto fino adesso è divertimento, un'altra fase della mia vita, anche una fase molto spensierata, sia ballando che, diciamo, il programma di De Martino. Qui era una grande emozione, ma anche una grande responsabilità. Cioè, tu firmi il nome del popolo italiano e devi rappresentare tutta l'Italia, il Ministero dell'Agricoltura, andavo tanto in Europa, tanti soldi, tante responsabilità. Poi era proprio il Ministero del Cuore, quello che voleva mio padre da me. Cioè, capito? Lady Oscar era diventata ciò che voleva papà, e quindi è stato bellissimo. Una grandissima responsabilità, ma anche un grande onore. E poi penso che questa esperienza di vita, cioè la politica, mi abbia dato veramente tanto. Io non la rinnego nemmeno un giorno. È finita un po' con l'amaro in bocca? Eh sì. Sì, perché non è finita per mia scelta. È perché qualcuno ha deciso che finisse. Tra l'altro, sai, sono stata pugnalata di notte, non con un avvertimento. Che quando una persona ti dice, non fai più parte, non stai più nel partito, non sarai eletta, ok. Ma quando tu firmi anche più candidature, vai a dormire serena, con 41 di febbre, insieme a tua figlia, altrettanto che ha 40 di febbre, e ti svegli improvvisamente, scopri che sei stata tolta dalle liste di notte, è come accolterlare una persona al buio mentre è di spalle. Per me è stata una ferita molto profonda, difficile da superare. Ho avuto un grande tunnel, proprio emotivo, perché comunque mi sono svegliata una mattina e non facevo ciò che io volevo fare, che desideravo fare. Anche questo contatto con la gente, che adesso io ritrovo in avanti popolo, è anche generato da tutto questo, poter dare voce agli istanze degli altri. Io facevo politica per questo, per me era una missione. E quindi poi mi sono svegliata, mi sono rimboccata le mani, e le maniche, ancora una volta, nella mia vita mi sono rialzata e ho detto no, devo reagire e devo reinventare un'annunzia diversa. Hai fatto tutto da sola? Tutto da sola, tutto profondamente da sola, ed è la ragione per la quale quando qualcuno ammicca, sai, il pregiudizio appunto, oppure dice che magari io sono, è la moglie di, è il politico, è l'amica di, mi dà profondamente fastidio, perché io so, il giorno dopo, questa mancata elezione, come mi sono svegliata e come sono stata sola. Quando più nessuno ti cerca, il telefono non ti squilla, il tuo partito ti esclude, e tu dici adesso che faccio? E non è che qualcuno mi ha dato una mano, anzi, io mi sono ritrovata da sola, ho cominciato a investire su me stessa, ho iniziato a scrivere i giornali, sono diventata giornalista pubblicista, poi sono stata chiamata da Massimo Giletti, con il quale avevo un'amicizia, e mi fece la proposta di andare a lavorare con lui. Tutto questo c'era già che era piccola, c'era anche una bambina a casa, quindi... Una bambina piccolissima da gestire, ovviamente un rapporto con mio marito, che era di centro-sinistra, con il quale comunque eravamo abituati, ci siamo conosciuti in Parlamento, no? Noi ci arriveremo perché ti abbiamo visto e l'abbiamo usata con lui, che ti pensi che ti stanzi così? Però sai, comunque anche il rapporto matrimoniale poteva subire uno scossone, eravamo abituati a vivere entrambi in un contesto, invece il rapporto, per fortuna, ha retto. Però io non è che sono stata aiutata da qualcuno, io sono stata aiutata da me stessa, dalla mia forza e dalla forza dell'amore, appunto, stavo arrivando alla forza dell'amore di mia figlia e della mia famiglia, perché comunque i miei genitori, i miei sorelli mi sono sempre stati vicino con calore, però io non sono una donna che si lamenta con gli altri, io di solito ricevo i pianti e le lamentele, cioè non sono abituati che io possa andare, stare male, piangere, disperarmi, perché destabilizzo tutti, quindi io anche quando sono male faccio finta tutto benissimo, tutto nunzia sarà sempre nunzia fortissima e quindi mi sono detta adesso reagisci e ti rinventi. Quindi accetto Giletti e rifiuto Mediaset. Fatemi vedere sua figlia Gea, perché Gea diventa fondamentale in questo momento della sua vita. Inolta la Calorẳchiamo! Grazie! Che ti devo dire, l'amore è vero? Ma già cosa pensa della mamma? Che è un maschiaccio, che è una principessina Cosa sa della mamma, Gea? Un maschiaccio Diciamo che c'è una grande... Ecco, qui tu hai Nunzia e Gea Gea si chiama Gea per questa ragione qui Perché è l'altra parte di me Io scrivo un libro, perdo un libro E comincio a usare questo nome Gea con mio marito Come nome, diciamo, che ci nascondeva l'identità E lui mi spiega, ma perché Gea? Io spiego le ragioni Lei è l'altra parte di me, la parte buona, no? Quindi quella sensibile che non fai conoscere a tutti Quindi Gea è questa, Nunzia è questa il maschiaccio Per cui lei conosce questa parte principalmente Però poi nelle segrete stanze nostre Ovviamente tutta la dolcezza di questa bambina È regalata innanzitutto e principalmente a Gea E se lei a 18 anni dovesse seguire il papà Votare PD? A volta buona Asseconderò la sua natura Con grande sofferenza Guarda che c'è di peggio C'è di peggio perché Potrebbe andare oltre Potresti anche avere una figlia Non mi interessa la politica Lo sai che sono la politica No Ma tifare la squadra di calcio Opposta a quella che tifi tu? Che non c'è Ah tu sei fortunata su questo? Io non sono tifosa di calcio Però ti dico Lei sarà libera È un dolore se tuo figlio tifa la squadra non tua Allora lei sarà liberissima di tifare quello che vuole Eppure di votare chi vuole E di votare soprattutto quello che vuole L'importante è che scelga 5 Stelle Movimento Li devi nominare tutti adesso Emma Bonino 5 Stelle Italia 5 Stelle Forza Italia PD Rifondazione Tutto quello che vuole Non nominare tutti perché qua succede il fatto attacco Le abbiamo nominati tutti Le abbiamo nominati tutti Non siamo in parcondicio Per cui Però l'importante è che vado a votare Ecco non mi interessa Non mi guardare come se mi stessi sgridando Esatto Chi triti? Il maschiaccio o la principessa? Riguarda te e non tua figlia? Ovviamente la principessa Va bene Ed effettivamente Anche perché per vivere in questo mondo di lupi La principessa diciamo deve stare giusto a casa Qua ci vuole il maschiaccio che dà pure i pugni Che te pugni e dice anche ciao maschio Eh sì Hai detto pure a Tersigni Sì Un po' ti manca ciao maschio È un po' Perché avanti popolo In questo momento c'è un rapporto con mio figlio Veramente da amico Cerco di dirgli Dico guarda le cose che ti dice papà Magari adesso ti stanno sulle palle queste cose qui Le devi fare e le fai in malavoglia Quando papà non ci sarà più ti ricorderà che queste cose sono fondamentali In famiglia la tua libertà o il tuo senso di libertà come era vissuto? Ma abbastanza male diciamo perché mia madre mi ha sempre difeso Mio padre è molto contrario alla libertà E quindi era anche un uomo violento Abbiamo subito violenza domestica Io, mia madre, mia sorella Quindi abbiamo subito cose, vissuto cose molto difficili C'è una cosa che hai sacrificato proprio che ti è costata? Niente Io penso di non aver sacrificato niente Noi volevamo partire come la Leopolda di Renzi Che era una vecchia stazione ferroviaria Noi avevamo pensato alla Bernarda Che era una vecchia casa chiusa Soltanto che quando siamo arrivati lì l'avevano riaperta E quindi, no, divertiti ci siamo divertiti Però abbiamo dovuto cambiare lo che Agli uomini che intervisti a ciò maschio chiedi di riscriversi con tre aggettivi Sì Ora ti dico io tre aggettivi Sì E tu mi dici se fanno parte di te, di Nunzia, oppure no Partiamo dal primo aggettivo Simpatica? Sì Penso di sì Bella? No Sexy? Attratti Vabbè ma ballando con le stelle non è servito a niente Allora, cioè scusate No, no Questa è una storia bellissima Perché Sei un po' strega Io sono un po' strega, sì Però spesso mi dicono che gli uomini mi trovano sexy Non ce l'ho questa consapevolezza Ma con Bella, niente, un massacro No, io penso di essere simpatica È un po' strega? Un po' strega, sì Visto che arrivi da Veneto Eh beh, la città delle streghe, come potrei non essere una strega? Professore, no, con la storia Eh beh, per forza Per forza Mi sono adeguato Stupendo Bentrovata, annuncia Ciao, mio caro Bentrovata Mi sono adeguato per due motivi Primo, perché sono uomo e sono minoritario E quindi ho fatto pulizia dello studio prima Ho sistemato tutto per le donne Che umile, professore Secondo, perché una beneventana doc Non può non amare le streghe Come io amo le streghe Mentre stanno passando le immagini di strega per amore, no? Questo, perché non l'ha visto Le streghe Mi fate fare un momento lo storico Il Medioevo demonizzava le streghe Perché? Perché erano donne Superiori agli uomini Più intelligenti degli uomini Più ironiche degli uomini Insomma, meglio degli uomini Oh, vedi luce di Girona E del resto E del resto La parola donna Deriva da domina Signora e padrona C'è poco da dire C'è poco da fare In omaggio a Benevento e alle streghe Sono arrivato con la scopa Che serviva per volare Verso il noce di Benevento L'abbiamo visto dietro, no? Un guento, un guento Portami allo noce di Benevento Sopra l'acqua Sopra il vento Sopra onne Malo tempo Questo l'ho fatto un po' alla gas Ma non l'ho fatto Mi è scappato così Non ti è venuto male? Non è venuto male Non male Ieri il canto è venuto malissimo Ora, una cosa che mi piace raccontare Visto che tra poco Poi la lascio la scopa Perché non so se è molto serio Stare così appoggiato Una cosa che mi piace raccontare Noi siamo tra poco Che la televisione fa 70 anni C'è un programma bellissimo Negli anni 70 Anni di trasgressione Anni di crisi e di cambiamento Crisi significa cambiamento Che si chiamava Strix Streghe Lo vediamo anche sottofondo Probabilmente stanno per passare Ecco, tutte le donne si sono messe in gioco Questo è il noce di Benevento Ma è uguale Tutte le donne si sono messe in gioco Ecco, ecco, ecco Guardate, ecco Siamo nel 78 Chi c'è lì? La televisione Ecco, si mettevano in scena le streghe E la televisione è a colori Quindi è coloratissima Un programma rivoluzionario della Rete 2 La Rete 2 a quel tempo faceva programmi rivoluzionari Le donne si mettono in gioco e cantano Patti Bravo Anna Oxa Mia Martini Guardiamole Oh, bene Già comincio a camminare Già comincio a tirare amore Nell'universo della mia fazia Ho una nuova teoria Per me la gente vola Per me la gente vola Allora, le donne Le donne, queste donne Queste prime donne Quindi abbiamo avuto la smorfia E abbiamo parlato con Enzo Abbiamo parlato con De Caro Quindi altro Qui stiamo facendo tutta una cosa molto partenopea Molto campana noi Non lo dire Ma l'ho detto io L'ho detto io L'ho detto io Che poi sono mezzo campana E mezzo napoletana E mezzo romano Questo è Trapani, ragazzi E Trapani che alla fine Giustamente Prende ombretta colli Le fa fare La strega Che parla in bolognese Quindi abbastanza caratteristica E chiude E' diventato uno slogan Degli anni 70 Siamo nel 78 Tremate Tremate Le streghe sono tornate E vi saluto così Grazie per il suo brocco Intorno a lunedì Ah, certo, certo, certo Con le streghe Come lo voglio vedere o no? Ci sta, ci sta Si vede Vediamolo, vediamolo Le streghe sono tornate Quasi Tremate, tremate Le streghe sono tornate Il mondo è un carosello infernale Tremate, tremate Le streghe sono tornate Trionfano le forze del male E attenzione è tornata anche Nunzia In televisione con un nuovo programma Avanti Popolo Sì, Avanti Popolo Su Rai 3 Tutti martedì sera alle 21.20 Tu marito ti ha suggerito il titolo? Proprio no Perché io mi ricordavo Avanti Popolo All'altra cosa Bagnia Rossa E invece no E non è quello Invece è Gabbani Amen Che è tutta un'altra cosa E il popolo che crede in un miracolo Guardato Filo Se me la fa Eh? Insieme Ma che insieme Ma che insieme? E allora Avanti Popolo Chi spera in un miracolo E lavoriamo il lutto E lavoriamo il lutto con un Amen Amen E una rete delicata come il Rai 3 Che ha anche una fase complicata Anche di smarrimento per certi versi Quindi che va ricostruita Ovviamente parlo di temi tanti importanti Intanto è arrivata la guerra Che ovviamente nel format del mio programma Non era prevedibile Una cosa così forte Così cruenta Che genera tanto dolore Sofferenza Ma anche tanta divisione nel paese Quindi tante cose nuove da affrontare Dopo una fase nella quale comunque mi occupavo di altro Per cui l'emozione era fortissima Veramente fortissima In quanto tempo hai convinto tuo marito Francesco Boccia Ad essere il primo ospite del tuo programma? Allora in realtà ti devo dire Che non è stato molto facile Eh immagino È stato molto complicato Però c'è stato un motivo Che poi ci ha spinto a farlo Le ragioni che dicevamo all'inizio Per chi si fosse collegato adesso Francesco Io sono stata ministro prima di Francesco Dopo è stato ministro lui Ma nessuno ha mai detto Il marito della ministra O il marito dell'ex ministro Io sono sempre la moglie del ministro O la moglie dell'ex ministro Ma perché che ho un mio percorso Una mia vita Non ho mai chiesto aiuto a nessuno Perché sei donna Perché sono una donna E anche strega E anche strega E guardate la prima puntata L'emozione si sentiva A breve mi misurerò anche con un'intervista Per me è abbastanza inedita o insolita Perché farò un po' di domande Al capogruppo Al senato del partito democratico Che è un esponente di spicco Dello stesso partito Che si chiama Francesco Boccia E che nella vita privata È mio marito Siamo stati tanti anni in politica Io ho fatto il ministro prima di te Dopo hai fatto il ministro tu Con una differenza Io sono sempre e comunque La moglie del ministro La moglie dell'ex ministro Sono stata la moglie del ministro Tu non sei stato mai Il marito del ministro Perché? Se le metti così Però pensano Che chissà Chi hai di fronte qui Io non ho potuto Un maschio italiano Medio Assolutamente medio C'è un tema che Probabilmente Se il presidente del consiglio Fosse stato un uomo Quelle frasi Non sarebbero state dette Gli elettori di sinistra Di questo studio No ma guardami Tu non guardarei Gli elettori di sinistra Guarda me Guarda me Hai detto che Non posso Perché ho dei tempi televisivi Da rispettare Io no Non è che siamo proprio A casa nostra Ma non è che vuoi tornare A vivere a Bisceglie? Quando sarà sì Mi sa che ci vai solo Visti tutti assieme Questi batti vecchi Sandra Raimondo Fanno effetto Vedi Noi abbiamo fatto Una cosa Unica Cioè Perché ovviamente Noi siamo una coppia Abbastanza inusuale Soprattutto all'epoca Quando abbiamo deciso Di stare insieme Poi Romeo Giulietta Del Parlamento Sì perché allora Era proprio Destra e sinistra Che si incrociano Di nascosto Netta divisione Cioè abbiamo vissuto Per tanti tempi Di nascosto E abbiamo sempre Rifiutato L'intervista Al cinema Ci hanno invitato Ovunque Ci hanno chiesto Di fare un film Qualsiasi cosa Un film? Sì Ma dimmi Questa cosa Volevano che facessimo Una parte in un film Dove c'era appunto Questa divisione Fra la destra e la sinistra Fra moglie e marito Ma che film è? Racconti Per fare questa parte È carino Sarebbe stato divertito Era carino Ma non abbiamo accettato Questa volta Io ho accettato Proprio per un motivo Perché il tuo programma? No a parte il mio programma E quindi diciamo Ho rischiato moltissimo Sulla mia pelle Sulla sua Però Proprio perché Io volevo dare Una dimostrazione Che si chiama Francesco Boccia Giorgia Meloni O Ellie Schlein Il trattamento Sarà sempre lo stesso Io sono Una donna Libera Libera Di dire Ma peccato Che per lui Non era la stessa cosa No? Perché scusa Fabrizio Un po' d'amore Ogni tanto bisogna dimostrarlo Noi vi abbiamo seguito E abbiamo pensato A questo Sì E se la regia Mi può aiutare È nato così Proprio dal cuore Subito Vedendo questa immagine Un meme E il meme Che racconta questo Quando tua moglie dice Ne parliamo con calma E ti invita in studio Davanti a tutti gli italiani Con cento persone davanti Ne parliamo con calma E poi Ti trovi giustamente Però guarda Lui è stato un atto Comunque di amore Nei miei confronti Io l'ho vissuto così Un atto di amore Anche per dimostrare Appunto che Io sto facendo sul serio Faccio una cosa Scevra da Qualsiasi forma I suoi colleghi Di pregiudizio e conflitto Cioè voglio sapere Il dietro le quinte Il dietro le quinte Erano tutti contenti Io ho ricevuto un sacco Di messaggi Anche A lui Sì anche a lui L'intervista è piaciuta molto Ma sai poi In Parlamento ci conoscono Cioè sanno Quanto poi Anche il nostro conflitto Sia vero Perché se ti trovi A cena con noi E provi a introdurre Un argomento politico Ovviamente Noi ci facciamo sconti Allora Presidente Berlusconi Come lo diceste Cioè Sono fidanzata Di Francesco Boccia Quello del PD D'accordo L'importante È che ti tratti Come una principessa Scusami Ma Ti ha sempre trattato Come una principessa Anche questa cosa Che l'uomo deve trattare La donna come una principessa Anche Anche la donna deve trattare Come un re l'uomo Se vogliamo la parità Ma chi mi ha sempre trattato Come una principessa Berlusconi No sto parlando di tuo marito Ah no Berlusconi sì Mio marito no Ma proprio no Cioè No Ti faccio un esempio Adesso si arrabbierà Ma tanto ormai Guarda dopo che è venuto da te Penso che Cioè ha dato tutto Siamo andati ad una festa Di un caro amico E Io mi ero vestita In maniera insolita Con un abito stretto Rosso Molto femminile Che non è proprio il mio look Ma se ci fosse passato Un fantasma Davanti Era meglio Niente Come sei carina Come stai bene Zero E ti pare un trattamento Da principessa No Cioè alla fine Questo rapporto Si basa Anche un po' Su un conflitto intellettuale Su questo gioco Su questo fatto Che lui Si è inafferrabile E di fondo Io non l'afferro mai Quindi Avanti popolo Era l'occasione Per rafferrarlo La famiglia allargata Perché lui appunto Era già papà Di due ragazzi Che adesso sono grandi E tu alla fine Insomma C'è stata Una vera e propria Dichiarazione d'amore Bravissima Guardatelo Se avete perso Chiudo questa intervista Con una foto Di I nostri tre meravigliosi figli La nostra Famiglia allargata E Visto che siamo In una fase Dove si è discusso Molto di una pesca So il tuo dolore So come è stato difficile Lasciare i tuoi figli Poi Costruire un'altra famiglia Ma insieme Abbiamo fatto un miracolo Di tenere questi tre ragazzi Insieme E approfitto Della televisione Per dirti grazie Perché Culturalmente Non ero pronta Alla famiglia allargata E invece ho capito Che è un valore straordinario E quindi abbraccio I nostri Tre figli Grazie Questa Questa confesso Che non me l'aspettavo Ti stupirò sempre Fino alla morte Mio caro Ti stupirò sempre Fino alla morte Cioè Io sarei preoccupata A posto suo No Allora Hai colto E i tuoi autori Qui vedo la mano di Mario Odino Hanno colto Un momento Molto importante Che molti Presi più dalle critiche Forse Non hanno Percepito Il momento verità Di questa fine intervista Io ho fatto una cosa Che non avevo mai fatto Ho detto la parola I nostri figli Perciò Francesco era commosso Perciò Le lacrime Anche io Mi commuovo ancora oggi Perché è la dimostrazione Che le differenze Sono un valore enorme Io quando Ho incontrato Francesco La cosa più difficile per me Non era la differenza Di partito Era il fatto Di accettare Che venendo da una famiglia Molto tradizionale Molino bianco Come la tua Io mi imbattevo In una famiglia alternativa Che era una Comunque una persona Con figli Che aveva lasciato Una compagna E per la mia cultura Per la mia educazione Era lontano Io ho fatto un percorso Cioè lui E Benedetta Che è l'ex compagno Mi hanno portato Per mano Verso questo obiettivo Poi è nata mia figlia I ragazzi sono uniti E io Per la prima volta In televisione Facendo veramente Una televisione verità Che dovremmo tutti Comunque cercare Di fare sempre Io ho detto I nostri figli Dopo tanti anni Che è il raggiungimento Di un obiettivo Culturale Importantissimo E quindi Pensavo di doverglielo E di doverglielo In un momento Che comunque resterà Per noi Nella nostra vita E nei racconti Dei nostri mitosi A questo punto Allora scusa Tra Francesco Boccia E Nunzia De Gironamo Chi triti? Rispetto a questa cosa Nunzia De Gironamo Immaginavo Pensa Sono d'accordo con te E allora Avanti popolo E spera in un miracolo E lavoriamo il lutto Con un ave Dal ricco lucchia scetico Al povero dispito Dimentichiamo tutto Con un ame A me A me A me Grazie Nunzia In privato Appena sarà definita Questa scaletta Però ti assicuro Che ci saranno cose Di cui si parlerà Io e mio merito Ti guarderemo Come abbiamo fatto La prima puntata Che bello Grazie Grazie a te Grazie a te Grazie